Sono Cerfagli Alvaro, sono il titolare della BAL di Federico SRL di Incisa Valdarno. Lavoro con Banfi da una vita, diciamo. La mia azienda è iniziata nel 1984 e da lì è iniziato il rapporto con la Banfi. Da lì non l'ho mai interrotto e siamo sempre andati avanti d'accordo veramente. Il mio rapporto con Banfi inizia proprio dall'inizio anche di Banfi, dal 1984, sicché è una cosa molto ma molto lunga. La prima cosa che ci siamo conosciuti sono andato a visitare il castello che era ancora in ricostruzione proprio. Mi rimasi un attimino, poi visto adesso veramente hanno fatto dei passi veramente da gigante. Hanno fatto veramente un lavoro immenso. Il Brunello, ora o me ora, è un'eccellenza di tutta la Toscana, perché è il vino di riferimento della Toscana. È un'immagine proprio per tutta, sia l'Italia che la Toscana. È uno dei vini più importanti d'Italia. Si distingue il mondo, si distingue, cioè fa conoscere veramente l'Italia. È uno dei più grandi vitigni che si può lavorare.